un tale si rivede con un amico ciao allora come va che fai di bello attualmente niente non lavori avevo trovato un bel lavoro e mi piaceva però è successo che per una gentilezza di troppo mi hanno licenziato cioè racconta vedi ero sull'autobus e ho ceduto il posto ad un passeggero visto che era cieco questo è stato un bel gesto bravo ma perché ti hanno licenziato non so io per giunta ero l'autista grazie